Sono degli strumenti molto difficili da suonare, non tanto perché siano strani, ma perché bisogna abituarsi a suonare a meno 12 gradi centigradi, con le dita che rischiano di ghiacciarsi tutto il tempo e le corde che continuano a calare, è degli strumenti molto forti perché quando vengono suonati l'emozione che sente il pubblico è fortissima. Grazie a tutti.